Voi l'avevate mai vista una ruota panoramica come questa? Siamo a Giacarta, eccoci qua, la mitica ruota panoramica, chiaramente tutto messo a norma, la catena, i bambini lì dentro sono sicuramente al sicuro, non rischiano di mettere fuori il braccio e gli si tranci, eccoci qua. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.